Ci sono nuove linee guida in merito al coronavirus da parte della OMS. Il ministro Speranza ha scritto per un approfondimento in merito alla situazione. Ci sono nuove raccomandazioni da parte della OMS sul coronavirus e su come sia necessario comportarsi. Le nuove raccomandazioni della OMS come si evince anche da TECOM24, ci sono nuove raccomandazioni da parte della OMS per la gestione della pandemia. Secondo le nuove istruzioni non sono necessari due tamponi negativi a distanza di 24 ore con guarigione clinica e bastano 3 giorni senza alcun sintomo. La OMS ha specificato. Ci sono quindi dei nuovi criteri per i pazienti che devono essere dimessi a seguito dell'isolamento senza dover ripetere il test. Paziente asintomatico 10 giorni dopo i primi sintomi aggiunta di 3 giorni senza sintomi, anche febbre e problematiche respiratorie, per facilitare la comprensione delle nuove linee guida. La OMS fa un esempio pratico. Nel documento che è stato preparato si legge che i vari paesi possono anche continuare a considerare il risultato del test come criterio per le dimissioni barra rilascio. Le linee guida sono spostato del test come criterio per le dimissioni barra rilascio. Le linee guida sono spostato del test come criterio per le dimissioni barra rilascio. Le linee guida Grazie a tutti. Grazie a tutti.